All'inizio degli anni 2000 Paolo Meneguzzi era uno dei nomi più in vista nel panorama musicale italiano. Con le canzoni Tormentone, Il nome dell'amore e Vero falso, il canto autore spopolava in Italia, dopo essere già diventato una star in Sud America. È nel 1996, con la vittoria del Festival Divina del Mar in Cile, che inizia infatti la carriera di Paolo. Un percorso ventennale che è ripreso con l'ultimo album dal titolo Non a caso 20, uscito lo scorso anno e anticipato dal singolo sogno d'estate. Paolo Meneguzzi, all'anagrafe Pablo, è stato per lungo tempo lontano dalle scene, si è allontanato dalle major ed ha scelto un percorso alternativo che le ha regalato la libertà alla quale agognava. Oggi ha un marito e un padre felice, il piccolo Leonardo ha un anno, e sta girando l'Italia facendo concerti estivi nelle piazze. In un'intervista rilasciata a Soundblog lo scorso anno, Paolo aveva spiegato la scelta di allontanarsi dall'ambiente che in qualche modo lo aveva plagiato, ad esempio impedendogli di farsi vedere con la sua fidanzata e costringendola a restare incastrato in certi meccanismi che non gli piacevano. Aveva anche parlato del grande successo avuto in Cile, dove era diventato un fenomeno alla One Direction, e delle voci su un suo presunto lavoro da barista che lo avevano fatto arrabbiare. Quello del bar è stato un investimento aperto con altri soci. «Vivendo metà del mio tempo ad Ibiza passavo spesso dal bar e cercavo di dare una mano. Questo non significa che facevo il barista, anche se non ci sarebbe nulla di male. Io sono il tipo che non si fa mai problemi. I miei genitori mi hanno insegnato l'umiltà e i sacrifici per il lavoro. Se sono nel mio bar e c'è bisogno, io lavoro, non me ne frega niente», ha dichiarato Paolo, che prosegue la sua carriera da cantante e la sua vita da papà in tutta serenità.